Eeeh what's up a tutti ciurma e benvenuti raggio carino in questo nuovissimo episodio su Supermarket Simulator Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con il like è... Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con il like ha le serie assolutamente fondamentale Per cui se volete un nuovo episodio appunto su questo simulator ragazzi vediamo di riuscire a raggiungere e superare almeno i 50 like E come sempre ringrazio veramente di cuore tutti quelli che stanno continuando a sostenere questa serie Ebbene signori e signori eccoci qua finalmente di ritorno nel nostro luogo preferito Origine di tutto il nostro business ragazzi La volta scorsa è successo effettivamente un po' un casino perché ha iniziato ad arrivare più gente E quindi si è creata una situazione che non si era mai creata prima Cioè sarebbe dire ragazzi si è formata addirittura la fila alla cassa Cioè una cosa mai vista ragazzi E c'è stato uno dei commenti che avete lasciato sotto appunto lo scorso episodio ragazzi Che mi ha fatto pensare un pochino perché ovviamente la volta scorsa avevo chiesto un qualche consiglio Ero indecisa se assumere un cassiere o meno E diversi di voi ovviamente mi hanno detto che forse per ora è meglio un attimino aspettare Anche perché il supermercato forse ancora un pochettino piccolo Magari per poter assumere un'altra persona ragazzi sarebbe meglio addirittura mettere un'altra cassa Cosa per cui adesso non ho molto spazio Cioè oddio c'è dello spazio Però forse non così tanto E quindi questo commento non lo specifico ragazzi dice Niente cassiere per ora Prenderebbe 80 cash al giorno E non farebbe altro che starsene seduto a battere scontrini Mentre tutto il lavoro sporco Dovrei farlo tu E quello ovviamente aspetta sempre un attimino E poi sicuro ruberebbe dalla cassa Non sapevo che potesse succedere anche questo E in effetti Qualche altro episodio sola con le tue forze non farà male E ti permetterà di comprare altri scaffali e licenze Comunque i prodotti non li abbassare così tanto Se costano 5,99 sul mercato metti 5,90 Non 4,99 Quindi ha voluto dire giustamente Che se li abbasso troppo ragazzi E il guadagno è veramente troppo minimo no? Quindi sarebbe meglio a forse alzare un pochettino Alzare cioè proprio alzare un pochettino i prezzi E attenta Questa ragazzi è la parte del commento che più mi ha stupito Che ti stanno rubando i prodotti Poi ci ha messo anche un'altra piccola parte nel commento Che dice se vengono quelli per il pizzo Tirali addosso prima l'olio e poi la farina Però poi ha scritto a parte gli scherzi Cioè non so se veramente è vera questa cosa Non lo so Vabbè in ogni caso ovvero o meno Alla fine ha scritto Bell'episodio simpatica soprattutto mai volgare Intanto grazie e grazie veramente a tutti anche gli altri Che hanno lasciato un commento sotto lo scorso episodio Che lasciano commenti comunque sotto questi video In ogni caso ragazzi quindi c'è un attimino da pensare che dobbiamo fare adesso Perché la volta scorsa avevamo comprato questo nuovissimo bellissimo scaffale angolare ragazzi Per avere ovviamente un pochettino più di spazio Per mettere la nostra roba Per avere più gente Stare dietro a tutto sarà un pochettino Complicato però è così che va Abbiamo sognato di aprire il nostro piccolo supermercato Abbiamo sognato che diventasse un mega impero E quindi bisogna fare un pochettino di sacrificio Ok Allora volevo un attimino ridare ragazzi un'occhiatina a queste licenze Perché la nuova licenza per i prodotti ragazzi costa 550 dollari E ci aggiungerebbe succo d'arancia, cola bibita, zap, zap, bio juice, latte confezione da sei e turco Bibita Fatto sta che questa licenza effettivamente ragazzi aggiungerebbe principalmente E non principalmente solo robe da bere Sto vedendo che la cosa ancora più interessante ragazzi Che a livello 12 si sbloccherà la licenza del prodotto per vendere prodotti completamente diversi Perché si aprirà la possibilità di vendere prodotti di pulizia e di cura personale Quindi cioè qua si andrà veramente oltre E intanto, intanto prima di prendere le decisioni importanti ragazzi Ovviamente paghiamo l'affitto e la bolletta Ragazzi allora quest'oggi io mi trovo particolarmente in crisi Perché vorrei anche magari estinguere il debito che ho con la banca E non è poco ragazzi Oggi sono completamente in crisi Non so che cosa fare Allora prima fare qualsiasi cosa ragazzi Di metterci di mezzo il cash direi di prendere questi prodotti che sono rimasti Rimettere sugli scaffali quello che avanza E poi darci una regolata Allora non mi era rimasta moltissima roba E tra l'altro devo ricomprare alcuni dei prodotti che ovviamente mi sono finiti A questo punto ragazzi farei la follia di ricomprare un po' tutto Facciamo così Oh allora quando fanno le pile così dritte Cioè Allora intanto dovrei aver rimesso quelli che erano i prodotti proprio finiti O quasi finiti Quindi adesso direi comunque ragazzi di fare un nuovo acquisto Per avere appunto qui a disposizione già la roba Per poterla rimettere sugli scaffali quando comincerà ad arrivare il delirio Ok ho ricomprato le cose che non avevo comprato adesso per fare il restock Quindi direi di mettere tutto ordinatamente qui in magazzino Anche se Mi devo dire proprio sinceramente ragazzi Allora una soluzione Perlomeno una possibile soluzione Al restock durante il giorno Cioè quello che devi fare in fretta e furia Perché la gente si sta mucchiando in cassa E i prodotti sui scaffali sono finiti Sarebbe ovviamente comprare magari per assurdo Un altro scaffale ancora Per poterci buttare di sopra fondamentalmente un po' di tutto Per cui Uno scaffale doppio ragazzi costa 200 dollari Io direi a questo punto Visto che stiamo giocando Giochiamo di comprarlo Continuando quindi a rispondere alle nostre possibilità Lo compro Basta 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 Non voglio pensarci più sopra Ecco Perfetto Bisogna vedere dove metterlo questo scaffale Allora perché il magazzino per ora ancora mi serve Forse riusciremo a fare un po' di spazio Spostando un po' più in qua Il frigo Rispostando un po' più in qua Questo scaffale Proprio al millimetro E vediamo se entra in quest'angolo qua ragazzi Oh che ballo un nuovo acquisto anche oggi Dimmi che ci entra Perfetto signore e signori Perfetto Per cui ovviamente non avrà un aspetto molto ordinato A questo punto direi di togliere questo bucio Che c'è fra i due scaffali Perché era proprio antiestetico E così Eeeh Guardate un po' ragazzi Come si è incorrendita la nostra parete Questo spazietto che è qui in mezzo Mi sta facendo venire nervoso Ecco qua Oh Stavo dicendo Che non avrà un aspetto molto ordinato Nel senso che non tutti i prodotti uguali Saranno vicini gli uni agli altri Ma a questo punto ragazzi Sinceramente Un po' sticazzo Continuiamo ad aggiungere roba Come se non ci fosse un domani E credo che questa possa essere una Comunque buona soluzione ragazzi Perché Non si ha il tempo materiale Proprio per rimettere le cose sugli scaffali Intanto che la gente in casa si sta lamentando Ecco In azione di restoccaggio Via Bellissima è rimasta ragazzi Una scatola di spaghetti E un pacco di pansati Ok Allora Ah Un po' tutt'altro aspetto Se proprio vogliamo essere Sinceri Vero I prodotti sono messi un pochettino Alla casa De cani Ma va bello Sto che abbiamo ancora un pochettino di cash Altro piccolo investimento Per avere Comunque Sempre un pochettino di roba Nel nostro magazzino Ok Ovviamente non sono tanti i prodotti Che ho in magazzino ragazzi Ma cash purtroppo Abbastanza limitato Incrociamo tutto l'incrociabile Speriamo Che la giornata di oggi Sia un pochettino Più gestibile Per cui Signore e signori Incrociate Le dita Assieme a me E Apriamo Ogni volta ragazzi È un'emozione Buongiorno a tutti Signore e signori Prego Vedo tutti abbastanza decisi Oddio Oddio Ma veramente tutta sta gente Sta arrivando qua Aspettate che Mi metto qui Buongiorno signora Direi per adesso Di restare Qui in casa Ragazzi Già a disposizione Per farsi crea gente Paghi Salve 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 Buongiorno A tutti voi Buongiorno Buongiorno 97 Ecco qua E Iniziamo bene ragazzi Se iniziamo con questi Non ho riguardato i prezzi Mi sono dimenticata Questo è grave ragazzi È gravissimo Devo un attimino Ridare uno sguardo Ai prezzi Facciamo 5,50 Basta che comunque il prezzo Sia leggermente più basso Ragazzi Rispetto a quello di mercato Quindi Facciamo 10,99 Qui Non ci facciamo fregare 6,50 Arrivo Arrivo eh Porca paletta Mi potevo ricordare Prima Di aprire Il maledetto negozio Speriamo che la gente Oh Già si forma la fila Buongiorno 60 centesimi a lei Ecco qua Porca paletta Che bella spesetta E mi paga anche con la carta 35,47 Ecco qua Buona giornata Foraina Foraina Sì 34 Ecco qua Va bene Va bene Va bene Importante Che vengono Vengono Così vedono Ecco Il primo della giornata Mi sembrava strano Ecco la lei Buongiorno Ecco qua Buongiorno Anche lei Che gioia Oddio Già sto a vedere Che ha un botto di gente Riguardiamo i prezzi Veloce 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 Ecco Vabbè Rega Ci tocca alzare Veramente un pochettino I prezzi Vabbè 7,20 Oh State buoni però Direi che può andare 3,50 Fin quando sono più bassi Di quelli di mercato Io penso che possa andare bene Ragazzi Penso di sì 2,99 2,40 Il latte Io penso che Vada tutto abbastanza bene Ragazzi Spero Madonna Santissima Ma che Ma dove posso pensare Eccolo Dov'è che entra tutta sta gente Così improvvisamente E comunque Io continuo a pensare A quello che mi è stato detto Sul fatto che mi stanno rubando Dei prodotti Ma come faccio ad accorgermene Come ci posso riuscire Cioè non è che posso Vedere chiunque entra E esce dal negozio Non posso stare Dai un altro Ecco qua Ecco qua Madonna Rega Incredible Ed è possibile questa cosa E dai Ma che è oggi Tutti i Rockefeller Ecco qua Pagatemi Oh Oh shit Oddio Rega Non sono ancora pronta Per queste spese incredibili Le casse sono piene Lo so Non vi dite Non vi dite che sono sola Rega Minchia Non possono aspettare Due secondi Dio santissimo Che subito Le gente si lamenta E su Ecco Se pagaste tutti quanti Con la carta Magari Sarei molto più veloce A servirvi Ecco Vedi quanto sono stati bravi Tutti quanti Non commenterò Non commenterò Va bene No assolutamente Assolutamente Pane e formaggio Ecco qua Allora Rega È finita un botto di roba Ovviamente è finito Quello che non ho Mi pare ovvio No Perché non ho ricomprato La faraina Certo che no Prezzo giusto Grazie Buona giornata Solo il sale Ma che è Prezzo giusto Grazie Buona giornata Che ora è Minchia È già sulle 6 di sera Incredibile Eh lo so Signora 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 Oh presso giusto Dovrei comprare la farina Veloce Abbiate un attimo Di pazienza Praticamente Finite tutte e due Ok il ripiano è pieno Guarda lo metto qua Così a caso Oddio Si sta facendo boia Sì era ad entrare La giunte Ecco la faraina Rega 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 Cioè sarà presto a tutto Veramente Cominciare ad essere Così complicato Oh meno male Che non sarà formata La fila E c'è Oh Non me potete fare questo Però Ecco qua Questo è un fu Ho sbagliato a dare il resto È la fretta Rami scusi Non volevo sbagliare Rega Non ho neanche visto Dove ho sbagliato Cavolo Se voi non mi resta sempre Banconote Da 100 dollari Non sbaglierei Oh E che diamine Scusi Ecco Etta Oh rega Ma che è oggi Hanno pagato le pensioni Tutte oggi Non lo so È andata in giro Coi contanti Dio santissimo I pezzi da Da 100 Veramente non Oh prezzo giusto Grazie al cielo Penso che tutti Siano riusciti A trovare tutte Almeno così sembrerebbe Ragazzi 40 e 77 Che te faccio passare 4 dollari Ma anche no Mi scusi Ecco qua Vediamo Poi vediamo Quanta gente si è lamentata Di non aver trovato i prodotti Io penso Solo uno Fino adesso Questa sarebbe Veramente la soluzione migliore La soluzione migliore Ragazzi Sono le 9 di sera Ovviamente c'è La solita cliente Delle 9 Che arriva quando io stavo Per abbassare la serranda Si è infilata sotto Tipo bissia Un cliente sta aspettando Per pagare Ce li ho anch'io Gli occhi Ho visto Ok Oh Adesso dovremmo esserci Vero È la prima volta Ragazzi Che sbaglio a dare il resto Può accadere Ho fatture Però già abbiamo pagato Ragazzi Per cui ovviamente Come al solito Il restoccaggio Domani Secondo me Questa del nuovo scaffale Ragazzi È stata veramente Una buona trovata Mi aiuta a non dover impazzire Per forza All'ultimo secondo Andare a rimettere la roba Sugli scaffali Cioè più roba c'è Sugli scaffali Più ovviamente è probabile Che la gente Trovi quello che cerchi Quindi Momento della verità 35 clienti ragazzi Quindi la gente Continua ad aumentare Anche se di poco alla volta Però ti erano trovati Ragazzi Solo una persona Perché era l'unica cosa Che non avevo ricomprato Ovviamente Da avere in magazzino La farina Il resto Ho sbagliato uno Mi sa che quel signore Non tornerà mai più Tostago Ovviamente ragazzi Quest'oggi Siamo Di poco Guadagno Perché abbiamo Speso 200 dollari Comunque Solo per lo scaffale Più Il resto delle spese A ricomprare la roba Dei prezzi Sono cambiati Caffè Tè Cereali E acqua in bottiglia Caffè Si è abbassato E facciamo 9 e 20 Dai Tè Si è abbassato Anche i QS Ah no scusa Sono ancora in prezzo Di mercato Va bene Quindi ci rientriamo Acqua in bottiglia Non mi ricordo che altro Già mi sono scordata Ma anche con l'acqua in bottiglia Ci stiamo Non mi ricordo Quale fosse l'altro prodotto Perché ogni volta Mi dimentico Direi di aumentare Un pochettino Il prezzo di cereali Ok Ho ricontrollato Tutti i prezzi E dovremmo essere Sempre nei prezzi Di mercato Quindi Direi che oggi Sarebbe bellissimo Ragazzi avere anche Un altro scaffale Addirittura un altro scaffale Solo che poi dovrei comprare Veramente Un botto di roba O facciamo questa follia Pure oggi Ragazzi Perché più scaffali compriamo Più roba ci abbiamo Meno poi sarò A impazzirmi A rimettere la roba Sugli scaffali Quindi visto che abbiamo La bellezza Di 884 dollari Quindi abbiamo Abbiamo il cash Direi sì Sì Facciamola Questa follia Compriamo un altro scaffale Ragazzi basta Quest'oggi voglio Ingrandire Le mie possibilità Assolutamente Quindi togliamo questa roba Ovviamente ci sarà sempre Un po' di spazio Per l'angolino Magazzino Eeeh Prendiamo questo nuovo scaffale Guardate com'è bello Eccolo qua Vedete Ci lascia anche lo spazio Per l'angolino Magazzino Ragazzi Tanto Rimettiamo La roba Ragazzi Ci abbiamo Quindi restoccaggio Via Allora ragazzi Tutto quello che avevo qui Nelle scatole È stato messo sugli scaffali Quindi adesso Non ci resta che ricomprare Tipo Tutto Tutto Probabilmente quest'oggi Di nuovo resterò Con le chiappe Per terra Ma poco importa Perché è questo Che si deve fare ragazzi Si deve investire Io ricompro Veramente Ogni singola Cosa ragazzi Spero Veramente Di non andare In fallimento Guardate Mamma mia Ma non ci passi sopra Mi ha spiaccicato I prodotti Ragazzi E te credo Me li buttano In mezzo alla strada Animali Ce l'ho fatta Tipo mezz'ora Che sto qua Vabbè Non così tanto Ma ragazzi Come potete ben vedere Ho riempito A bomba Tutti quanti Gli scaffali Con la roba Che ho comprato Ho fatto veramente Una spesa immensa Ragazzi Alcuni scaffali Sono rimasti Un pochettino vuoti In effetti Per cui direi Che forse L'unica cosa Che posso fare Adesso ragazzi Devo soltanto Vedere magari Cos'ho Un pochettino Di meno E finire di avere Quelle due cosette Magari In magazzino Onde evitare Appunto poi Di ritrovarmi Ragazzi Nella Bellenza Di doverle Ricomprare Mentre ci sono i clienti Quindi l'unica cosa Che vedo che c'è Un pochettino di meno Gli scaffali Sono gli spaghetti Gli altri prodotti Mi sembra di vedere Almeno tutti Su tre ripiani Diversi Più o meno Non tutti ovviamente Ma quindi allora Prenderò Spaghetti E la farina Mi anticipo Perché ho visto Ragazzi Che solitamente Quella finisce Per prima Per cui Portiamo i nostri prodotti Nel nostro bellissimo Magazzino Gli spaghetti Gli spaghetti Sono gli unici Ragazzi Che finirò A mettere Sullo Scaffale Così Da evitare Rotture Anche oggi Siamo di nuovo Poveri Perché ho soltanto 125 dollari Che mi sono rimasti Nel conto Le fatture Le fatture le paghiamo Adesso L'uffitto Lo paghiamo Adesso Così ci togliamo Il pensiero E ragazzi È arrivato il momento Della verità Un altro Nuovo momento Della verità Seconda giornata Di oggi Ragazzi Vediamo Se questa strategia Funziona Quindi come sempre Ragazzi Incrociamo Tutto quanto L'incrociabile E apriamo Al pubblico Come sempre Buongiorno A tutti voi Buongiorno Signore Signore Mi fa ridere Ragazzi Perché prima Non c'è Nani Ma poi Arriva il momento Che il negozio Esplode Però stamattina Veramente Non si vede Nani Ma la signora La vedo bella convinta Eee Belli 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 Preputanti Oh Perché ho buttato I spoggari Sulla cassa Quindi ce l'avevo Una scatola di spaghetti Mi sembrava strano Aspetteremo Pozzi Antemonte In cassa Vedete ragazzi La farina La farina Ma tutta sta farina Ma che ci fate Vedete Un'altra con la farina Io voglio tenere il conto Dei clienti Che comprano la farina Ragazzi Siamo già due Su due Che hanno pagato Buongiorno Oio di seme Ma lo mettere i cereali Ecco Quello Forse Qui devo fare più attenzione Che ci sono i prodotti Da frigo Perché quelli Veramente sono limitati Nella loro quantità E io ancora Mi sto chiedendo Come faccio ad accorgermi Che qualcuno Mi sta derubando Cioè evidentemente È gente che entra E poi esce Senza pagare Ma è una parola Ragazzi A tenerli in occhio A presto giusto Buona giornata È una parola Come fai a vederli Cioè Intanto che magari Se gli ha la cassa A passare i prodotti Cioè È abbastanza complicato Solo il pane Che brutta spesa Signore Scusi se glielo dico Burro da regni Mamma mia Che bella spesazza Con pasta Pazzati Lei è la vincitrice Del giorno Signora Ecco qua Grazie Oggi è impossibile Che la gente Non trovi i prodotti Ragazzi Sembano che veramente Non Ehi Verete Altro cliente Con la faraina Ma perché Buona giornata Forse gente che entra E non ha la busta in mano La gente che ruba Non lo so Non lo so ragazzi Questa cosa Dovremmo Farci attenzione Mua Presto giusto Buona giornata Basta Pazzati Spogare Un'ottima accoppiata Ecco a lei Questo tipo di cliente La prima volta E lo vedo ragazzi Mi ricorda qualcuno Però non so chi Pazzati Il primo della giornata Con la sleppa Da 100 dollari Mo sta cosa ragazzi Dei ladri Mi ha Mi ha incuriosito troppo Ecco a lei Wii Quanta roba Signore E prezzo giusto Grazie Grazie Continua ad osservarli Tutti Mua Come se non ci fosse Un domani Solo pansati È venuto apposta Dall'altra parte Della città Per venire a prendere Pansati Lo capisco 50 centesimi A lei Ecco qua Solo formaggio E' grattarvelo Dei piedi Ed è Ficoltoso Verò Allora Non so se oggi È entrata meno gente Ragazzi Ma non si è formata La fila Mazza Quanta varina E quanto burro De rachidi Ammazza Attento signore Attento le sue arterie Cioè Mi sto dicendo Non so se è entrata Meno gente O il fatto di avere Tutti i prodotti Sugli scaffali Quindi non dove stare A perdere tempo A restoccare Fa sì che io stia Alla casa E che quindi Non si formi fila Può essere Una buona giornata Eh sì Eccolo qua Sta cominciando A fare buia Ecco qua Non mi paghi anche lei Oh Per fortuna Per fortuna Ogni tanto qualcuno Si ricorda Che esistono i bancomas Ehi Pansati Spugare Sono contenta Quando comprano Pansati Ecco qua Vedete Sta per fine Una giornata Ragazzi Non riesco mai A superare Ad arrivare Tipo i 900 1000 dollari Ma questo perché Ovviamente Eh raga Si deve ricomprare La roba E ogni volta È un rosso Però domani Non comprerò Scaffali E quindi Dovrebbe andare Un po' meglio Eh ragazzi Eh sì sì Era da un po' Che non vedevo Sì sì Ecco qua Per fortuna Perlomeno La questione prezzi Ragazzi Sembra essere Migliorata Nel senso che Nessuno Si lamenta Eccolo là Finito Finito il formaggio Ce l'avevo Il formaggio Eccolo Beh che ormai Siamo in chiusura Quindi È stato utile Come una scureggia Sott'acqua Ma non fa niente Ecco qua Eh lo so L'ho rimesso adesso Abbiate un attimo Di pazienza Una cosa Minchia Che non ho tenuto D'occhio Che pallonze Però Che siete Cioè Sto cazpita De formaggio Non se l'è comprato Nessuno Per secoli Adesso tutti Volevano Il formaggio Mamma mia Che rompimento Che siete 28 e 60 Oh Ora siamo in chiusura Signore e signori Eh Non si assardasse Nessuno Ad entrare Adesso Allora ragazzi Quello che avevo appena detto Che non riuscivo mai Ad avvicinarmi Perlomeno ai 1000 dollari Guardate un pochettino La cifra Abbiamo superato I 1000 dollari Ragazzi Ovviamente Non è quello Il nostro guadagno Netto Però Direi che oggi È stato molto meno Difficoltoso Proprio perché Abbiamo comprato Più scaffali Direi che è arrivato Il momento Della verità Perché il restoccaggio Ovviamente lo lasciamo A domani mattina Vediamo 36 clienti Prodotti non trovati 3 Tutti e 3 Guarda caso Cercavano il formaggio Quando l'avevo finito Costi di fornitura 558 200 ragazzi Per il miglioramento Però Siamo in un profitto totale Di 123 dollari Che non è male Visto tutte le spese Che abbiamo avuto Allora Caffè Cereali E burro d'arachidi Prima che mi scordo 6,66 A questo punto Quasi quasi Aumenterei di un pochettino Burro d'arachidi Uè Assolutamente 6,20 Allora E caffè 9 Cifra tonda Perfetto Preciso Quindi allora ragazzi Adesso Stavo pensando di comprare Una nuova licenza Ok Però Se poi non ho i soldi Per comprare i nuovi prodotti Mi succede la stessa cosa Che è successa L'altra volta Quindi i nostri errori Dobbiamo imparare ragazzi Quindi prima di tutto Si farà Restoccaggio Generale Di tutta la nostra roba E poi Vedremo che cosa fare Esattamente come ieri ragazzi Cosa ho fatto Ho ricomprato Praticamente Tutto Probabilmente anche prodotti Che in effetti Ho ancora in negozio Perché l'olio di semi Non se lo sta comprando Più nessuno Maledetti Bastard Credo che questa ragazzi Sia la cosa migliore da fare A questo punto delle cose Visto che abbiamo Tanto spazio Adesso a disposizione Ogni giorno Mi toccherà Ricomprare Sempre Praticamente Tutto Quello che Ho in negozio Per lo meno per adesso Che non abbiamo ancora Tanti altri prodotti Perché Quando arriverà il momento Che avremo Tanti altri prodotti Ovviamente Bisognerà dare la precedenza A cose che ci sono di meno O a prodotti Che comunque vengono Venduti Principalmente di più Ok ragazzi Anche questa mattina Ce l'ho fatta Credo che sarà una cosa Saggia ragazzi Avere a disposizione Come dicevo prima Almeno i prodotti Da frigo Che per ora Sono quelli Che hanno una Minore quantità Adesso ragazzi Non ho abbastanza Zinzi Per poter comprare Una nuova licenza Però Se partiamo Da questa base Di cash Domani Forse Dovrei essere capace Di comprare Una nuova licenza Il problema È che quando avrò I nuovi prodotti Da inserire A questo punto Visto che ho riempito Gli scaffali Di questa roba Non so se avrò spazio Per gli altri prodotti Però questo Poi lo valuteremo In un altro momento Quindi ricompriamo Latte Uova Tanto formaggio Ce l'ho Ultimo acquisto Del restock Di questa mattina E quindi È il momento Della verità Signore e signori Di nuovo Per oggi Incrociamo Tutto quanto L'incrociabile E andiamo Ad aprire Sono nervosa Sono nervosa Come se fosse Il primo giorno Prodotti in guandità Non ci manca mai Niente Non vi potete lamentare Ha preso l'olio di semi Eccolo Buona giornata Grazie signora Rega Sta farina Sta farina Ma non sto capendo Perché si sta vendendo Tra l'altro Quella farina Lì Sta quella che costa Di po' più di 6 dollari Super mega spesazza Mamma mia Quanto ha speso 75 dollari Quel momento La ragazzi In cui la gente Comincia a spendere Un botto di soldi A fare la spesa Ecco qua Mamma mia Ma che cazzo È fatta Che c'ha la congiuntivide Ma chi è successo 6 e 20 Un barattolo Che gaffolini Olio di oliva Rega La farina Sta cominciando Ad essere la mia preferita Anche se no Non potrà mai Superare L'olio di semi Sto provando A continuare A tenere d'occhio I clienti Ragazzi Ma non noto Niente di strano Ecco a lei Due prodotti A prezzo giusto Spuggare Ecco a lei Ecco a lei Ecco la sleppa Della giornata La prima sleppa Della giornata Perlomeno È venuta apposta Per l'olio d'oliva Il nostro incredibile olio Fatto non si sa Con quali olive Ma Le assicuro Che è di Una qualità eccezionale Buona giornata Buongiorno anche a lei 18 precisi precisi Sono arrivate due gemmello Ma si vestono anche ugualo Uè Pansati olio d'oliva 17 10 E poi a lei Uè Pansati capo Uè ma ma Dai quante uova Quante uova Sì Quante uova Ecco qua Sono appena le due e mezza Ragazzi Siamo già a più di 900 dollari Olio di semi Pansati Ecco a lei Uè Che bello Vedere come fiorisce La nostra fantastica attività Ragazzi Ecco qua Allora Eccola Ah volevo vedere Sono finite quasi le uova ragazzi Ma ce le ho Ah Il formaggio però serve Ecco qua Pansati Vedete ragazzi Vengono apposta Sta per pansati Come puoi non venire apposta per pansati Però mi sa che a me sta per finire i pansati Adesso se ce faccio caso Quanta Quanta pansati avete preso Ok Eccola là Un'altra pansati Un'altra sleppa Ecco a lei Ragazzi Ragazzi è finita pansati Non ci sto credendo Da quando è che non andava così tanto pansati Incredibile Visto che ne state comprando tanta Io ce la rimetto tipo subito Tipo now Tipo now Poi già accendo la luce ragazzi Perché non ci si vede Prima che si formi la fila Quaranta Seventi nove Bellissimo Eccola là Vedete pansati Oggi è la giornata di pansati ragazzi C'è poco da fare Non vi lamentate della fila Che sto facendo dal mio meglio Mi raccomando Oh Ecco qua Prezzo giusto Grazie Che ballo Che ballo Pansati Vedete Un'altra volta Sbagliato Ah vaffanbeffero Mannaggia Io ho dato il resto in più ragazzi Ah però non vi lamentate Quando vedo i soldi in più Eh pezzi di sterco Mannaggia la pupazza Ho premuto troppo velocemente ragazzi Ero troppo felice per pansati Livello negozio unici ragazzi Continuiamo a salire Sto a pensare il resto in più Che ho dato a quella pezza di merda Giame Oh Scef 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 Quando vedo Tutte queste spese Così abbondanti Cioè Pansati Oggi ragazzi Il prodotto del giorno È stato Pansati A go go Vedete In ogni spesa C'è pansati ragazzi Sono le 9 di sera però Eh Giusto per farvi notare Che dovremmo essere in chiusura Ma se mi prende olio di seme Tutta questa farina 51 dollari Tanti sets Ecco qua Uii Iii Iii Signora ha finito Quanta altra roba sta comprando Oddio santissimo Ecco qua C'è di tutto Sì sì Oddio d'oliva Eh Signora Vabbè No ho sbagliato Non gli ho dato un centesimo Vabbè per un centesimo Eh manco è tutta sta grande gravità Voglio dire Giusto Oh Allora Signore Voglio dire che oggi è andata Benissimo Perché penso che nessuno si sia lamentato Ho dato del resto in più A una cliente Ma Vorrei portare l'attenzione Sul nostro conto di stasera Ragazzi Non so se Non so se Ragazzi Non so se Fatture da pagare Le paghiamo Adesso ragazzi Per assurdo Potrei comprare anche La licenza Per quanto riguarda i prodotti Di pulizia Sono molto tentata Perché questo darebbe Comunque un pochettino Di Veramente rinnovo Ragazzi I nostri prodotti Che per adesso sono soltanto Di tipo alimentare Quindi questo Significherebbe Dedicare un intero scaffale A questi prodotti qua Quindi comunque Significherebbe dare Meno spazio I prodotti alimentari Cioè Non è facile ragazzi Che se poi Lo spazio a disposizione È poco Poi come cavolo Puoi fare Cioè Quindi non so Se comprare prima La sezione Per ingrandire il negozio Se comprare prima Altre licenze Visto che abbiamo Tutti questi scaffali Però Si potrebbe Riorganizzare un po' Il tutto E lasciare questo spazio qua Ai prodotti Di cura personale Perché Effettivamente ragazzi Ho sparso i prodotti Un pochettino Dappertutto Però Riorganizzando un pochettino Gli spazi Anche i prodotti alimentari Dovrebbero avere Comunque Tanto spazio a disposizione In ogni caso Vediamo come è finito Questo giorno ragazzi E dopo faremo Le nostre valutazioni Vai 37 clienti entrati 37 clienti soddisfatti Sì Questa ragazzi È una vittoria Allora I costi di fornitura Sono sempre tanti Ovviamente Perché ricompro Praticamente sempre tutto Fatto sta Che oggi ragazzi Signore and I Fermi Rullo di Tamborini Profitto totale di 413 dollari qua siamo in miglioramento il prezzo del latte è cambiato andiamolo a cambiare prima che mi dimentichi 2,40 lo mettiamo a 2,20 allora sono veramente molto indecisa qua sarebbe da fare ragazzi una riorganizzazione generale per lasciare almeno uno scaffale libero ed è bene non buttare le scatole per questo vedete poi che significa perché così possiamo spostare i prodotti il problema è che non tutte le scatole vanno bene per tutti i prodotti quindi allora questo sarà un bel casino detto fatto lo scaffale è vuoto per fortuna che avevo conservato delle scatole vuote quindi penso che sia meglio prima comunque comprare i prodotti che mancano allora oggi non ricomprerò tutto ovviamente ragazzi perché sarebbe una follia ricomprerò soltanto quei prodotti che vedo che ci sono di meno quindi prodotti da frigo dobbiamo comunque averceli perché sono quelli che ci sono di meno ho già un cartone di latte ricompriamo quindi intanto uova e formaggio la farina questo è poco ma sicuro perché è quello veramente ragazzi che si sta vendendo di più quindi il resto tocchiamo la faraina ricomprerò anche pasta pansati ovviamente ragazzi perché se è venduta come se non ci fosse un domani e gli spaghetti e ricompro una scorta perlomeno di pansati e di questa farina qua ricomprerò il burro da arachidi perché non mi sembra che ne sia rimasto moltissimo sto ricomprando un botto di roba ragazzi che diamine e devo ricomprare il caffè ragazzi perché me ne è rimasto veramente poco cavolo pensavo di dover comprare un po' meno roba però più gente arriva e più prodotti vengono venduti mi pare ovvio allora ragazzi io penso che comprare adesso questa licenza ricomprare e comprare nuovi prodotti sia una buona cosa ma da un altro lato ho paura un pochettino che poi non avremo abbastanza prodotti da parte però fa parte ragazzi della vita di un imprenditore quello di prendersi tutti i rischi per cui licenza prodotto comprerò ragazzi questa qui che costa un po' di più lo so ma è per variare veramente un pochettino gli altri più avanti vedremo quindi è arrivato il momento ragazzi di comprare la licenza per avere jaja vevel candeggina tuprop che io chiamerò ovviamente tuprot detergente per pulire clean dish pastiglie per lavastoviglie savion sapone per le mani kaya shampoo pudu carta igienica che bello ragazzi avremo la carta da culo spero di avere abbastanza posto per la carta da culo andiamo signori nuovi prodotti disponibili che bello ogni volta ragazzi che facciamo queste cose io sono troppo troppo felice vediamo un po' adesso ragazzi siamo oh che figata siccome ovviamente hanno aggiunto nuovi prodotti adesso ti permettono anche di filtrare i prodotti per cercare più rapidamente quello che ti serve no vabbè ragazzi ma di che stiamo parlando eccoli qua ragazzi la carta igienica io non so se avrò spazio per mettercela adesso ridiamo tanto ragazzi compriamo tutto è che il cielo ce la mandi buona vediamo un po' wiii non avrò spazio per questa carta igienica uh si c'è spazio ma ce ne entrerà a malapena due per scaffale porcaccia miseriaccia vabbè tanto più dei quattro non ce stanno dentro la scatola eeeh questo che cos'è ah poi devo cambiare i prezzi ragazzi eh mi dovessi rimenticare manteniamo qualche scatola che può sempre essere utile uh il sapone per le moni ma che bello wiii ragazzi non siete contentissimi insieme a me io sono felicissima che bello le pastiglie per la lavastoviglia cioè è meraviglioso tutto ciò assolutamente meraviglioso c'ho la gioia proprio dentro di me il prodotto sembra mastrolindo questo no vabbè regà adoro tu prot il nuovo pelato delle pulizie e la candeggiana haha che bello ragazzi il nostro nuovo piccolo scaffale per i prodotti per la casa e per la cura della persona wii cambiamo prima i prezzi facciamo 4,50 per la candeggiana ammazza regà uno shampoo 6 dollari vabbè mettiamo 5,99 sapone per le mani 1,99 dai detergente per pulire facciamo 2,99 e le pastiglie per la lavastoviglia porcaccia miseriaccia regà fermi perché le pastiglie per la lavastoviglia potrebbero diventare il mio nuovo prodotto preferito cioè regà 20 dollari prezzo di mercato ovviamente mettiamo 20 e 20 mi pare ovvio carta da culo invece 15 dollari un pacco di carta da culo mettiamo 15 tondi tondi dai che bello ragazzi allora io penso che non posso cioè far passare questo video senza aprire di nuovo forse verrà un po' più lungo del solito ragazzi ma io non posso far passare la giornata di oggi ecco poi non troverò ovviamente prodotti che mi servono scatole vuote me le fico dove sono io non ho prodotti da frigo scusate questo non va bene ragazzi mi ritrovo di nuovo col sedere per terra ma devo ricomprare almeno le uova e il formaggio guardate il mio conto adesso come piange ragazzi ma ne è valsa la pena vediamo quanta gente comprerà i nuovi prodotti ragazzi non vedo l'ora apriamo e incrociamo tutto quanto l'incrociabile venghino signori venghino quest'oggi nuova incredibile apertura con nuovi incredibilissimi prodotti per la vostra casa e per voi venite 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 li aspettarò qua in cassa col sorriso più grande del mondo non fate caso alle scatole per carità eccola la prima cliente del giorno vediamo 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 ha preso le pastiglie ha preso panzari buongiorno signora visto che bello è i nostri nuovi prodotti 42 80 ci sono nuove clienti ragazzi che non avevo mai visto è andata è le donne le donne ovviamente principalmente vanno al reparto della cura per la casa odio di semi wiii altre pastiglie ha preso pure il detergente per pulire raga adoro che bello c'è un nuovo primo giorno che meraviglia così è dare un po' più di scelta alla gionte eh scusate meglio di così si muore wiii ammazza quanta roba ha preso lo shampoo lo shampoo più caro del mondo tipo 37 e 38 grazie e dai un po' di più ha preso anche lui le pastiglie grazie della vostra viglia raga wii 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 pansati spaghetti quanta bella roba grazie 4189 contento signore non ha preso niente di nuovo quindi no ma va bene lo stesso 770 ecco qua minchia vi è piaciuta la candeggina haha salve 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 che bello che bello che la gente possa trovare noi i prodotti sotto casa minchia è andato spedito ragazzi spedito a comprare lo shampoo si è comprato shampoo andiamo non fa niente magari sono per sua moglie ecco qua mazza pure tanta faraina wii 29,95 olio di semi ma solo olio di semi semi signore dai guardi la varietà di prodotti che abbiamo ecco a lei e via ok perfetto ragazzi dovrebbe essere tutto sotto controllo praticamente è finito il pane adesso ci faccio caso cioè la gente non ha comprato mai così tanto pane tipo adesso e ovviamente non ce l'ho quindi lo devo ricomprare ma ne vedete com'è comodo ragazzi fai la ricerchina e tu lo trovi subito adoro quindi fai pure prima arrivo signore buongiorno panzati uè quanta candeggina porcaccia miseriaccia wow wow e panzati strano che non è arrivato nessuno ancora spaccarmi in testa la banconuta la 100 cash che rega quasi finita la candeggina non mi aspettavo che oggi tutti sti prodotti andassero così forte perché magari la gente può essere un po' diffidente la carta al culo non l'ha comprata nessuno rega mi è finita la candeggina ridendo e scherzando mi è finita la candeggina è nel momento peggiore tra l'altro ecco qua grazie grazie wow che felicità 34 e 76 eeeh ma allora qualcuno li compra ancora i cereali pensavo di non averceli più e 22 ecco fatto è finita la candeggina ufficialmente ragazzi la devo ricomprare prima che qualcuno si lamenti che non ce n'è quasi finito pure lo shampoo lo hanno comprato anche i pelati per quanto è bello sto shampoo eeeh quante pasticche per la vostra miglia 42 e 39 grazie eeeh eeeh non ci sto credendo ragazzi incredibile 67 e 60 ecco poi arriva lui ecco qua grazie signore si sta spegnendo si si sta spegnendo sta tramontando il sole mi è finito quasi lo shampoo ecco qua solo il pane davvero come vuole lei eeeh ok ecco qua siamo non ancora in chiusura ma ci stiamo avvicinando alla chiusura ecco fatto oh finalmente oh 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 minchia la prima carta ragù ma quante pasticche per la pastiglia si è comprata se mangia questo tipo di patatine regà questo spenderà un botto regà ha preso pure la faraina quella cara weeeh weeeh il caffè immortaliamo questo momento vi prego ecco qua grazie signore il cliente del mese una buona serata grazie oddio che bello e pure la carta alla culo mi è finita pure la carta alla culo 50 regà no 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 è pazzesco oggi ecco qua eeeh signori siamo in chiusura basta basta che poi non trovate i prodotti e mi rompete le noci ecco qua ok wow wow olio d'oliva weeeh ma l'olio di semi non me lo sta comprando più nessuno cioè l'olio di semi ragazzi la punta e gli amanti di questo negozio no siamo in chiusura è incredibile è incredibile tutto ciò ok 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 non so da quando si è stoppata la telecamera ragazzi mi dovete scusare veramente poi uno sta troppo concentrato 50 centermi ecco qua ancora a entrare estate oh stiamo chiudendo sono già le 9 di sera signora ok oh ma ho comprato l'ultimo shampoo vero? ah no non era l'ultimo ma il penultimo ecco qua oh signore e signori che dire veramente poco ora dire perché direi che è andata benissimo io credo che nessuno si sia lamentato di non aver trovato qualcosa e hanno comprato anche nuovi prodotti ragazzi parecchi nuovi prodotti devo dire più di quelli che mi aspettassi quindi è andata favolosa man te paghiamo le nostre fatture il nostro affitto e quindi direi che è arrivato il momento di vedere com'è andata questa giornata 35 clienti 35 clienti soddisfatti ragazzi ovviamente oggi siamo in rosso ma perché abbiamo pagato la bellezza di 750 cash per la licenza e ovviamente per i costi di fornitura ragazzi ma direi che chiudiamo la giornata di oggi comunque avendo un bilancio pasta e shampoo aspettate prima che mi dimentichi ok abbassiamo 320 shampoo e candeggina uè 585 si è alzato 550 e lo shampoo porcaccia paletta 6 e 20 dai ok allora ragazzi io direi che quest'oggi abbiamo fatto veramente grandi grandi cose abbiamo comprato i scaffali abbiamo comprato la nuova licenza cioè raga è andata veramente direi divinamente non è successo niente di strano se non il fatto che io abbia dato tutto quel resto con la signora ma poco importa perché questo significa che il nostro impero si sta ovviamente ingrandendo piano piano sarà interessante comprare anche altri prodotti però questo ovviamente ragazzi lo vedremo dalla prossima volta come sempre se avete dei suggerimenti da darmi ragazzi sono tutti ben accetti qua sotto nei commenti io sono veramente curiosa di vedere come continuare a migliorare tutta questa situazione quindi non vedo l'ora ovviamente ragazzi di fare un nuovo episodio questo video termina qui grazie a tutti un bacione e un badocio a tutti ragazzi da giocherina ciao 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 Grazie.